La sentenza del Consiglio di Stato ha suscitato la legittima rabbia dei balneatori, accorciata infatti dal 2033 al 2023 le concessioni balneari, il fine, aprire alla libera concorrenza. Nel Mirino 250 attività tra Pescara, Montesilvano e Francavilla, complessivamente 750, tra Martinsicuro e San Salvo, 33 chilometri di spiagge occupate dai Lidi. Il rischio dunque di dover riconsegnare le concessioni nel 2023 con ben 10 anni di anticipo rispetto a quanto stabilito dalla legge 145 del 2018 che appunto aveva esteso la proroga al 2033. Padovano, un autentico terremoto? Beh, è un terremoto che non ci aspettavamo. Qua invece hanno praticamente detto che quella legge non ha più valore, che ha annullato tutto quello che hanno fatto fino adesso. Chiaramente io non sono avvocato, non lo so. Io ho un atto pubblico, un atto pubblico, una concessione registrata presso l'ufficio del registro e l'ho fatta nel lontano 2019. Adesso mi si viene, dopo tre anni, a dire che quel mio atto pubblico non ha più valore io posso qualche avvocato, me lo posso capare pure io, che dice, almeno per dipendere il mutuo che ho fatto per quella concessione. Ma parlo io come si parla il bagnatore dell'Abruzzo. Ecco, a rischio 250 imprese, attività, quali iniziative pensate di intraprendere? Noi oggi pomeriggio intanto facciamo una riunione regionale. Qui è la politica che deve intervenire. Dopo un schiaffadone che avrà da Cuciforte, penso che sarebbe il caso che si alzi e ritorni sul ring e trovi un altro schema di come evitare di piallicazzutti, capito, di fine mo'. Diremo questo oggi pomeriggio. Per scrivere la nuova legge coinvolgiamo anche la magistratura, che ci dia una mano. Così la scriviamo a tre mani, a quattro mani. La quarta mano è l'organo delle cabellini di Porto, che sono stati per 60 anni un organo che ha funzionato benissimo. E poi se noi dobbiamo lasciare, dopo tanti anni i sacrifici, dobbiamo tenere presente di una cosa. Va riconosciuto un indennizzo a colui che perde la concessione. Ricordiamo che la sentenza del Consiglio di Stato è inappellabile. Ecco, la domanda è questa. Riguarda anche i mercati rionali? Eh, ci stanno i mercati rionali, ci stanno i tassisti, ci stanno tutti quelli mercatini che si fanno sul territorio. Quindi, sta cosa, i balneari, fa volume, fa notizia. Però attenzione, attenzione, dico, tu che stai nel cantiere navale, che mi stai ad ascoltare, e che hai l'impianto di carburante, e che hai il cantiere che fino a Falegnamo aggiusti le barche, tu che tira il banchetto che vende il pesce, tu pure sei come me. Perché le concessioni di maniale marittime sono tutte. E non è che ha fatto la sentenza turistica e regredita, se ne hai guardato bene. Ma ha detto, concessioni di maniale marittime, quindi all'interno di un'area di maniale marittime, ci sta tutto, pur l'edicola che sta là. Grazie. 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 Grazie.